Qualche ritardo dovuto ad un improvviso lutto, ma i lavori per la nuova scuola Cino da Pistoia sono ad uno stato di realizzazione avanzato. Per la conclusione dell'opera, infatti, mancano principalmente le finiture ed il completamento degli impianti. È già stata realizzata tutta la parte degli impianti e mancano da realizzare una parte delle finiture, una parte dell'impianto e naturalmente la parte esterna. Quindi i lavori sono in fase di avanzamento, diciamo, piuttosto avanzata. In effetti c'è stato un rallentamento, purtroppo, dovuto al decesso del legale rappresentante della ditta appaltatrice, la Russo Costruzioni. Gli uffici hanno lavorato e stanno lavorando proprio per la riorganizzazione dei lati e quindi per riprendere quanto prima i lavori alla scuola. Entro la fine dell'anno si presume che l'edificio sarà concluso. In accordo con la dirigente dell'istituto, dottoressa Sara Calzolaro, è anche in corso la predisposizione delle aule nell'attuale edificio scolastico di Via Rossi, dove l'intero ciclo della secondaria di primo grado Cino da Pistoia tornerà a settembre in attesa dell'apertura della vicina scuola in costruzione. Stanno valutando le aule per posizionare tutti i ragazzi delle scuole Cino e quindi rientreranno all'interno del plesso di Via Rossi. E grazie anche a tanti lavori che l'amministrazione comunale ha fatto in questi anni, proprio lavori dovuti al Covid, quindi abbiamo ristrutturato aule, trovato nuovi spazi, ci sono le aule disponibili per tutti. Quindi possiamo rassicurare anche i genitori degli studenti delle Marconi che dovranno poi rientrare successivamente alle Roncalli? Possono essere rassicurati perché per il nuovo anno scolastico le scuole Marconi si trasferiranno all'interno delle Roncalli, i ragazzi delle Cino che sono dentro le Roncalli sono le terze e sono uscita, e all'interno dell'istituto Cino saranno ritrovate le aule per ospitare i ragazzi delle seconde, quindi i nuovi del primo anno scolastico che entreranno nel plesso delle Cino. Grazie a tutti.